Allora, se siete d'accordo, io passerei alla presentazione di Plautilla Bricci, architettrice. Allora, cercherò di essere veramente sintetica perché ho dedicato a Plautilla Bricci i vent'anni della mia vita, dagli anni della scuola di specializzazione, strada dell'arte, poi un dottorato e un postdoc, che hanno portato alla pubblicazione della prima monografia su Plautilla, ormai quattro anni fa. Cercherò di rendere una cosa un pochino più umana, nel senso che perché mi sono appassionata a Plautilla Bricci? Ve lo dico perché è stata anche poi lei che mi ha portato molto di più nel mondo delle donne artiste. Da giovane laureata in lettere, con l'ambizione di entrare alla scuola di specializzazione, in storia dell'arte e alla sapienza, che era la scuola di venturi e d'Argan, cominciavo a visitare in maniera più intensa e curiosa le chiese di Roma e visitando la chiesa di San Luigi dei Francesi, la cappella Contarelli di Caravaggio, la cappella adiacente, mi cade l'occhio nella cappella adiacente e ce l'ha scritto Plautilla Bricci, architettura Plautilla Bricci, e lì mi si è aperto un po' un mondo, dico ma com'è possibile, ho riletto, mi ricordo che ho strabuzzato gli occhi, ho continuato a rileggere, dico no, è veramente un'architettrice vissuta, un'architetta vissuta nel Seicento. Il lavoro è stato molto lungo perché al tempo esistevano tre studi di fatto, uno sullo studio di John Varriano, grandissimo storico dell'architettura americano, una voce sul dizionario biografico degli italiani della Treccani, a cura dell'allora archivista delle Col de France a Roma, Olivier Michel, e poi appena uscito, mi ricordo, il libro della Benocci sulla villa del Vascello, scritto per il Grand Oriente, che appunto occupa la parte, ora vedremo, moderna di una delle costruzioni, di uno degli edifici disegnati da Plautilla Bricci. Quindi è stato un lavoro di ricerca faticosissimo, appassionante, che mi ha indirizzato a leggere tanto Seicento, quindi dalla letteratura, alla poesia, al teatro, alla vita di tanti altri artisti. Adesso faccio come Carla prima, uomini, ma qui insomma la doppia declinazione serve, per cercare di ricucire quello che poteva essere stato il mondo di Plautilla. Recentemente le ho, non avendo trovato nel corso degli studi, degli autoritratti ufficiali, esattamente un anno fa, ed in corso di pubblicazione, ho individuato quello che secondo me sono i suoi autoritratti in tre fasi della vita, che vedete qua sullo schermo, quindi in alta a sinistra, diciamo una donna di circa 35 anni, in basso negli anni della maturità e l'ultimo negli anni della vecchiaia, perché appunto di Plautilla Bricci si conosceva la data di nascita nel 1616 Roma, eccola qui, e io ho individuato finalmente la data di morte nel 1705, che è una data come vedete molto bassa, quindi una vita di circa 90 anni, che inizialmente era un po' distonica rispetto alle aspettative di vita medie del 6 e del 700, del XVII secolo, ma che poi mi hanno, che mi si è confermata appunto attraverso le fonti indirette, dove Plautilla viene detta donna molto anziana, che raccontava le sue memorie ancora appunto poco prima di morire ad un padre gesuita, che le riporta, lui ancora anziano, nella seconda metà del 700, insomma un giro un po' complicato, ma per dirvi che appunto questo è l'arco temporale di Plautilla e come quei tre ritratti appunto seguono la sua vita. Chi era Plautilla Bricci? Plautilla Bricci era figlio di Giovanni Briccio, che è stato un personaggio simpaticissimo nella Roma del 600, il primo 600 figlio di un materazzaro, appunto a Roma i materazzari erano i Robi Vecchi, gli antiquari, ma non tali, insomma Robi Vecchi, che genovese, proveniva appunto da Genova, e che arriva a Roma verso l'inizio degli anni 70 del 500, e si stabilisce con la famiglia in Santa Maria del Popolo, in la parrocchia di Santa Maria del Popolo, che allora era il sobborgo di Roma e anche quello più mal frequentato, e qui appunto è qui che nasce Giovanni Briccio, dove vive molta parte della sua vita, fino perlomeno agli inizi del, fino al 1620, all'incirca, quando poi riesce, vedremo come, insomma, a spostarsi nel quartiere più lussuoso di Roma, che era il quartiere Rinascimento, però è una parte più modesta, il quartiere Rinascimento, un quartiere nel rione Parione, quindi quella che oggi è dietro Piazza Navona, Palazzo Braschi. La mamma non era questa eppolita recupito che vedete sulla destra, questa era la zia di Plautilla, era una cugina della mamma napoletana, ma di origini napoletane, ma appunto non esistendo né un ritratto della mamma, e poi appunto, diciamo, io ho attribuito questi autoritratti, mi sembrava comunque ovviamente giusto mettere anche una parte femminile, e anche perché questa signora qui è una signora eccezionale, era la cantatrice del Cardinal Montalto, una cantatrice d'opera, ed una delle più stimate ed apprezzate cantatrici d'opera dell'Italia, degli stati italiani, agli inizi del Secento. Quindi Plautilla viene dalla parte di mamma, da parte materna, da una famiglia già abbastanza effervescente, culturalmente parlando, dalla parte del padre un po' meno, ma Giovanni Bricci è un uomo di grande tenacia, tanta tenacia che mentre andava a bottega con il padre, appunto, alla bottega del Materazzaro, presso appunto il rione Parione, quello che dicevo, presso Pasquino, la bottega era presso Pasquino, il palazzo Braschi oggi, alla fortuna, la bottega è situata all'interno del palazzo di Teofolo, di un avvocato concistoriale romano, che aveva allestito all'interno del palazzo una scuoletta per i figli, in particolar modo per il figlio maschio. E pare che questo ragazzino, Giovanni, mentre appunto il padre lo mandava a ritirare i materazzi o una tavolaccia vecchia, mettesse sempre la testa dentro questa stanza e volesse partecipare alle elezioni, fino a che appunto gli fu consentito di partecipare alla scuola, questa scuola è un grande, diciamo, disturbo del padre, una scuola che aveva anche un piccolo corso di disegno, quello che noi chiameremo oggi di disegno e di arte, tenuto da Federico Zuccari, quindi diciamo da quello che era poi il presidente dell'Accademia di San Luca, il fondatore dell'Accademia di San Luca, e che nota in questo ragazzo una certa predisposizione e soprattutto lo stimola a continuare. Cosa che Giovanni fa, diventa paesto del coro nella confraterna dei Lombardi al corso, dipingerà per invece la confraternita di San Giovanni Battista dei Genovesi, quindi diciamo la confraternita a cui faceva riferimento il padre, la piccola chiesina, insomma avrà tanti interessi, si occuperà moltissimo di letteratura, di letteratura di teatro, scriverà moltissime commedie sulla falsariga, insomma, della commedia dell'arte, un po' ridanciane, un po' che prendevano i soggetti dalla cultura popolare, in particolar modo romana. Però tra le tante cose diciamo di livello medio ce ne sono un paio che vanno più di un paio, insomma, ve ne elencherò due, ve ne parlerò, vi parlo però di una. Fu per esempio un cronista eccezionale, cioè partecipava, che noi diremo oggi di giornalista ufficiale alle prese di possesso dei pontefici, fu mandato a prendere, raccontare le nozze Herrera Costa, insomma, per intenderci, due dei mostri saghi della finanza degli inizi di Seicento, padroni mecenati e committenti di Caravaggio. Questo suo essere così, questa sua capacità di scrivere bene, di avere l'occhio lungo rispetto a quello che andava raccontato o non raccontato, lo portò quindi ad avere un successo discreto, ma for più che discreto, e tanto appunto da trascinare la famiglia nel quartiere bello di Roma, spostandosi da Santa Maria del Popolo a Parione. Una cosa bellissima che io ho trovato con grande emozione è questo codice che sta appunto nel codice Vaticano latino 14.201, vedete sulla sinistra, ed è un manoscritto in cui si parla della resurrezione di Cristo. Lì per lì, tra l'altro sulla destra vedete uno dei disegni all'interno del manoscritto, appunto, lì per lì insomma l'ho sfogliato, vi dico la verità, con un po' di sufficienza, ma più lo sfogliavo e più venivano fuori delle cose straordinarie, tra cui la descrizione dell'eclissi di sole esattamente come la racconta Galileo Galilei. Questo è del 1644, il formato di questo di Bercolo è un formato un poco più grande di una palmare, cioè di una mano, e quindi lì mi si è aperto veramente il mondo. Cioè ho capito a quel punto chi era Plautilla Bricci, l'ho capito dal padre, cioè un padre che lottando contro appunto i pregiudizi della famiglia d'origine, è riuscito a crearsi una posizione dignitosissima nella difficile Roma di primi 600 e che tutto sommato questa sua curiosità e bulimia culturale lo portarono ad abbracciare forse in maniera segreta, anzi sicuramente in maniera segreta, le idee di Galileo, tanto che questo Libercolo, a mio avviso, è più una scusa, cioè un pretesto nel titolo della resurrezione di Cristo per poter diffondere in maniera segreta o quasi massonica le idee di Galileo all'interno appunto di un ambiente a cui gli faceva riferimento. Quindi soltanto un uomo che era così aperto verso le scoperte scientifiche, in particolar modo, insomma, lo sappiamo tutti cosa ha significato, no? La biura di Galileo e quel momento lì poteva assicurare alla figlia innanzitutto un'indipendenza di pensiero, ma anche appunto creare le premesse per diventare quello che poi è diventata, cioè la prima architettrice della storia, se no, diciamo, non mi tornavano alcuni conti. Eccolo qui, questo è Galileo, l'ho messo tanto per fare un po' di colore. Questa è Piazza del Popolo, sulla sinistra Santa Maria in Montesanto, dove c'è, eccola qui, la primissima opera di Plautilla Bricci, che è una Madonna in trono col bambino. Se andate in chiesa, c'è ancora sul cartiglio a scuola di Antoniazzo Romano, non è affatto vero. E la tela, appunto, Madonna con bambino è stata recentemente, recentemente, ormai anche più tanto recentemente, è passati qua un po' di anni, qui restaurata. credo, se mi confondo, sì, Gigi Magni, per volontà di Gigi Magni, che alla morte lui era particolarmente devoto a questa immagine, tutte le mattine pare che si recasse a pregare di fronte all'icona della Madonna col bambino e alla morte ha lasciato, appunto, nel testamento che questa Madonna dovesse essere restaurata e infatti durante i restauri sul verso della tela è stata ritrovata Plautilla Briccia Roma Pingebat, la primissima opera che in realtà quando è uscito il mio libro ancora non era, cioè non c'era stata questa scoperta, era ancora in restauro e quindi io conoscevo meglio attraverso l'incisione che vedete sulla destra che è un'incisione che ricorda l'incisione presente nel libro di Bombelli, Pietro Bombelli, un abate che scrive alla fine del Settecento la storia delle Madonne coronate di Roma, cioè quelle Madonne che, sapete, ricevevano la corona vera, d'oro incastonata di pietre preziose quando, secondo il capitolo Vaticano, i canonici Vaticani appunto si si assicurava che avessero fatto dei miracoli e questa è una delle Madonne miracolose e coronate di Roma che Plautilla probabilmente segue in giovanissima età, io l'ho dato entro il 1616, 1619, scusate, 1632, 32-34, cioè prima che poi la famiglia di fatto si sposti verso, come vi dicevo, da Santa Maria del Popolo dall'altra parte del centro di Roma. In quegli anni lì Plautilla, grazie al padre che nel suo lavoro di teatrante drammaturco e artiste e anche attore frequenta, se torniamo un attimo indietro, insomma qui sulla, non si vede il cursore, eccolo qua, questa è via del corso, non questo palazzo, ma questo giallino qui era alla fine del 5, inizio del 600, il palazzo del Cavalier d'Arpino di cui è consolidato, insomma i documenti confermano una amicizia importante con Giovanni Briccio, il Cavalier d'Arpino fu per esempio padrino di battesimo della figlia Virginia, quindi della sorella di Plautilla e quindi un allunnato di Plautilla nella bottega del D'Arpino ci sta tutta, sia per vicinanza appunto di abitazioni, ma anche soprattutto per la stima che legava il Cavalier d'Arpino a Giovanni Briccio probabilmente tramite sempre lo Zuccari e quindi quell'ambiente che dicevamo inizialmente. Se diciamo la formazione come pittrice la possiamo facilmente intuire e dedurre anche rispetto a quella che era la formazione che ricevano tutte le donne, iniziamo ad Artemisia, prima con il padre Orazio e poi con Agostino, quello che mi rimaneva un pochino più ancora difficile da, vi ripeto, da far entrare era come fosse diventata architetta perché ancora non avevo scoperto il documento che dice architettrice e quindi mi sono fatta un po' ho cominciato a ragionare e sono andata a vedere come si diventava architetti maschi e come l'avrà diventato per esempio Bernini come no Maderno togliamo un attimo Borromini perché fa un po' caso a sé ma poi rientra anche nella vita di Plautilla si diventava architetti sul cantiere sul cantiere non c'erano delle scuole frontali e sappiamo che per esempio l'Accademia di San Luca aprirà i corsi di architettura soltanto nella seconda metà del Seicento si andava nel cantiere e si studiavano i manuali i famosi manuali i libri pensiamo a libri di teoria pura come quelli dell'Alberti ma anche a dei manuali come quelli del Servio e di Palladio che fornivano anche degli strumenti più pratici uno dei manuali più noti e più in voga e più usati nella Roma e non solo nella Francia del Seicento era questo manuale di prospettiva curiosa di Jean-François di Serron che era un frate minimo che appunto era come vedete qui in alto a sinistra viveva la Trinità dei Monti il convento di Trinità dei Monti e che aveva diviso il trattato in due parti la seconda parte tutta dedicata agli sviluppi potenzialità e divertimenti della prospettiva e la prima parte era proprio lo dice proprio un manuale per architetti quindi fornisce dalle prime rudimenti di aritmetica geometria e composizione affinché gli architetti potessero avere dei rudimenti teorici per esempio di fisica di quello che oggi si chiama scienza delle costruzioni era un testo questo molto noto molto famoso e che probabilmente fu usato da Plautilla per il primissimo lavoro che appunto ho scoperto che è questo palazzo che vedete in fotografia che è la cosiddetta Casa Grande Benedetti si trova in via di Montserrato quindi siamo di fatto vicino alla residenza dei Bricci via Giulia per chi non è di Roma non conosce bene Roma nei pressi di via Giulia via Giulia a qualche passo da questo palazzo chi era Benedetti Benedetti è stato il primo importante mentore di Plautilla di Plautilla Bricci era un personaggio curioso aveva studiato diritto e lo troviamo nella primissima delegazione che i barberini inviano a Parigi nel 24 nel 26 era un uomo decisamente intelligente e che riuscì a diventare l'intermediario tra Roma quindi tra il Papa e la Francia il re di Francia ufficialmente per questioni artistiche quindi era incaricato di trovare giovani artisti fu lui che riuscì a portare Bernini al fallimento che conosciamo ma insomma fu grazie a lui che Bernini arrivò al cospetto di Luigi 14 molto appassionato di questioni di architetture come si conoscono Benedetti e Plautilla allora la vulgata e la letteratura del 600 molto poca artistica ci dice che Benedetti aveva una sorella monaca pittrice e ufrasia Benedetti della Croce alla quale tra l'altro spetta la decorazione ad affresco dell'allora convento di San Giuseppe a Capolicase oggi ancora metà convento e altra metà è uno dei musei del comune di Roma e che appunto secondo le fonti secentesche Flavia o Eufrasia Flavia era il nome di battesimi e Eufrasia il nome che prese appunto quando divenne monaco fece conoscere Plautilla a Benedetti io penso che al di là appunto di un cliché di genere che è questo la vera diciamo liaison sia nata grazie a invece Cassiano Dal Pozzo che sappiamo benissimo che aveva una attenzione particolare nei confronti del mondo artistico femminile nel museo cartaceo di Cassiano Dal Pozzo troviamo disegni di Anna Maria Vaiani ma troviamo opere di Caterina Ginnasi troviamo opere di Maddalena Corvini documenti testamenti documenti incrociati vi la faccio molto breve ma insomma riportano continuamente l'interesse di Cassiano nei confronti delle delle donne delle artiste non soltanto ma Cassiano aveva creato nella sua casa ai ai Giubonari aveva istituito un'accademia di architettura io rileggendo l'inventario della biblioteca di Cassiano quindi con un occhio un po' diverso ho scoperto ho letto meglio perché in realtà l'inventario era già stato pubblicato non l'ho pubblicato io ma ho leggendo meglio ho scoperto che era tantissimi libri di teoria architettonica tra cui appunto il manuale di Alberti non Leon Battista dell'inizio del secento che sappiamo insieme a quello di Miseron essere appunto questi strumenti teorici per i giovani architetti quindi io sono sicura che Claudilla abbia frequentato quell'ambiente lì e che tramite Cassiano di cui conosciamo tutti insomma la la potenza e la la sua le sue intrature in casa Barberini sia riuscita a conoscere Benedetti e che poi appunto la l'educazione del del tempo non abbia permesso la morale del tempo non abbia permesso insomma di far conoscere ufficialmente Cassiano e Benedetti a Plautilla e quindi diciamo questa storia della sorella monaca di Benedetti di Elpidio ci centrava molto bene c'è stata messa poi che le due si siano effettivamente conosciute questo lo ritengo assolutamente vero la casa grande di Benedetti è questa che vedete quindi Benedetti affida da subito a Claudilla questo l'affida dei progetti di architettura questa era una casupola che lui ha fatto elevare di due piani l'ingresso come vedete qua sulla destra quindi non è centrato non è in asse rispetto alla facciata perché in realtà appunto era una un gruppo di case preesistenti queste erano le due stalle non ho le foto interne perché ancora i proprietari non me li hanno consentiti ma vi assicuro che la scalinata interna è una scala borrominiana straordinaria ecco perché vi dicevo che in realtà poi con Borromini Plotilla credo che si siano conosciuti si sono sicuramente incontrati dunque dove ho trovato tutti i disegni li ho trovati nell'inventario post-mortem del Benedetti dove c'è questo taccuino sciolto all'interno appunto del testamento ed è il capitolato dei lavori della casa bellissimo è descritto tutto la malta dei sassi non vi dico tutte le storie ma insomma questi sono i primissimi disegni di Plotilla questo appunto è la capitello il balcone la cornice sotto al balcone lo stemma Benedetti adesso mi ricordo eccolo qua lo stemma Benedetti quindi vedete come li ha poi di fatto realizzati questa che è una gran prova generale eccolo qui dove poi ho trovato il nell'archivio di Stato seguendo quelle tracce lì sono venute fuori questo bellissimo questa iscrizione questa nota no il Pidio Abba e Benedetti a Roma Gallis ed Agence appunto questo suo rapporto questo suo ruolo di intermediario che cosa fa o da commissiona a Plotilla Bricci una casa a Roma sul Giannicolo Plotilla Bricci che è architettura e pittura celebris che ha posto la prima lapide nel 1663 perché dopo quella prova generale lì Plotilla Bricci viene incaricata ecco qua di progettare quello che sarebbe stato il suo capolavoro e che purtroppo è andato quasi completamente perso che è questa 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 domus in in Urbis e Gianicolo del Benedetti villa appunto Villa Benedetti o Villa del Vascello perché aveva questa curiosa forma di una di una nave allungata purtroppo ecco ecco qua qui si vede bene ecco qui come si vedeva questa incisione del vaso in alto a sinistra quel tondino giallo e tutto quello che rimane della costruzione originaria eseguita appunto realizzata tra il 1663 e il 1665 in questa appunto forma molto particolare perché la appunto si entrava ancora oggi si entra perché in realtà una parte allora qui sulla sinistra dove il Grand Oriente ha costruito la nuova villa e diciamo è la pubblicazione di parlavo all'inizio della Benocci ma su una parte molto diruta della villa secentesca è stato costruito un nuovo padiglione che oggi in affitto è arrenato zero insomma al cantante pop italiano per dirvi no che ha sempre la sua smartina parcheggiata qui davanti al portoncino rimane soltanto il basamento di roccia perché durante i bombardamenti della Repubblica Romana del 49 sappiamo che il Giannico è stato il teatro di battaglia principale questa villa è stata completamente buttata buttata rasal suolo ed è un peccato perché abbiamo perso qui ancora una foto per farvela vedere meglio abbiamo perso qui appunto questa è una una stampa del museo di Roma di Palazzo Braschi ancora vedete nel 1870 si vedeva in quello stato lì e qui appunto sono i disegni perché la fortuna diciamo la sfortuna ha voluto che la sua opera più bella e più importante sia stata distrutta e se non fosse stato per un documento appunto notarile penso che nessuno mai avrebbe avrebbe immaginato avremmo potuto ricostruire le vicende di questa donna prima che artista questo lo voglio sottolineare appunto anche rispetto al discorso che facciamo prima sulla metodologia femminista c'è ancora una storia dell'arte senza una storia di genere non può assolutamente esistere poi magari ci si arriverà ma per il momento è difficile se no si perdono dei pezzi dunque Proutilla viene caricata dal Benedetti di progettare questa villa lei fa questo disegno questa vedete la pianta il pian terreno questo è il piano nobile con una galleria lunga 29 metri con la loggia poi magari ci ritorneremo il primo il primo piano eccolo qua e poi e poi questo è il lastrico cioè il terrazzo il terrazzo mi ricordo se ho messo tutte le foto insieme ecco questa è la facciata che invece è diciamo la facciata opposta a quella rocciosa che vi ho appena fatto vedere quella che poi in realtà è rimasta questa è ancora un'altra parte eccola qui diciamo questa parte qua in basso è la parte del muro esterno che è da su via Aurelia e questa confermiamoci qua e questo è il prospetto laterale dunque a destra c'è la via Aurelia e qui porta San Pancrazio e sulla sinistra c'è il Vaticano allora innanzitutto come facciamo a sapere che è stata veramente Claudilla Bricci perché mentre Claudilla comincia a disegnare a progettare la villa ovviamente deve anche fare i conti col capomastro come in tutti i cantieri quindi senza che racconto cose che ce ne possiamo facilmente immaginare ma che succede quello che quello che invece diciamo ha sempre suscitato la mia la mia curiosità a un certo punto il capomastro che sicuramente era un ticinese e che quindi proveniva da quell'ambiente del cantiere dove gli architetti si formavano con la cazzuola e la calce a un certo punto punta i piedi e dice io con questa non ci lavoro io voglio un uomo non voglio una donna diciamo per fortuna se vogliamo ricostruire la storia perché Benedetti è costretto a ricorrere a un notaio andare dal notaio e dire questo è il capitolato questi sono i disegni e questa è Claudilla Bricci architettrice che fece di sua mano e quindi da una questione appunto di genere ne è nata di fatto la fortuna di Plautilla a posteriori ma anche la sua nel momento in cui visse perché fu ovviamente il capomastro il Marco Beragiola obbligato a seguire le direttive di una donna e lei a lasciare questa opera straordinaria in cui vedete appunto i tre livelli non so se avete notato le due figurine qui sul sul balconcino sulla loggia che sono bellissime e la forma di questa villa è insolita nella Roma del Seicento bypass le ville coeve per questioni di tempo ma insomma non si era mai vista e non si vedrà mai più una villa che avesse l'ingresso nel lato inferiore minore e diciamo il prospetto laterale fosse all'interno del giardino cioè si sconvolge praticamente di 180 gradi il concetto proprio dell'accoglienza della villa suburbana romana perché qui ancora dobbiamo rientrare e tornare e guardare alla Francia in ordine diciamo di logica uno Benedetti che era questo mentore io sostengo che fosse anche una spia non ho ancora capito se era la spia del papa o la spia del re ma insomma faceva anche un po' da spia quindi il suo ruolo di mediatore tra Roma e Parigi due Benedetti nei suoi vari viaggi parigini era entrato in contatto con portava apro una piccola parentesi l'inventario dei beni di Benedetti post-mortem compresa la sua biblioteca tutta quanta trovata e trascritta era pieno di testi francesi quindi lui aveva comunque un grande amore rispetto e anche senso di gratitudine nei confronti della Francia in particolar modo di Mazzarino che lo sostenne fino alla morte del Mazzarino allora cosa aveva portato dalla Francia Benedetti aveva portato sicuramente questo libro d'architecture di Jacques André de Sousseau primo che era stato insomma una specie di forse anche a livello teorico un Alberti francese a livello pratico meno di un Alberti perché l'Alberti alla fine qualcosina ha fatto più di qualcosina è anche importante invece il Sousseau ha soltanto fatto questi grandi progetti visionari teorici veramente libri interi in cui dedicandoli tra l'altro alla regina di Francia in cui si era sbizzarrito a disegnare a elaborare questi piani queste ville che si sviluppavano in senso longitudinale e in particolar modo io ne ho individuata una perché hanno tantissime tavole che lui una dietro l'altra ma divertenti e di fatto poi uno ce li vede molto i castelli francesi di quegli anni lì di quel periodo lì ed una in particolare per esempio questa qui proprio si sovrappone in tutto e per tutto alla pianta della villa del Vascello quindi Plautilla viene chiamata da Benedetti a fare questo importante Benedetti conferisce commissione a Plautilla questo lavoro importantissimo secondo me per due motivi uno perché comunque già avevano un rapporto una collaborazione professionale che era andata bene nel palazzo di città di Ammonzerrato ma anche perché Benedetti che si sarebbe potuto permettere Bernini tanto ricco era ma aveva bisogno quindi esce fuori la parte più misogina ma che a noi a questo punto sta anche bene nel senso lo dico in maniera paradossale ovviamente nel senso che aveva bisogno di qualche architetto con cui potesse entrare in discussione in maniera un po' più cioè ci potesse discutere non come Bernini che era quello lo stato sono io no faccio questo e non si fa nient'altro in questo Plautilla lo ha assolutamente accompagnato e quindi ritorniamo velocemente perlomeno a questa che ci fa capire me ecco no questa ecco questa qui e con una divisione degli spazi modernissima insomma ci sono per ogni per esempio qui abbiamo quattro quartamenti quattro quartieri anche nella nella nomenclatura Plautilla utilizza più il linguaggio francese che non quello italiano dice appunto i quartieri la grande galleria cioè ci sono dei rimandi continuamente con il gabinetto a questo a questa cultura francese ed ecco perché rimane un unicum quindi per volontà del committente e per certamente straordinaria capacità dell'architetto dell'architettrice in questi documenti vi dicevo appunto si dice e si nomina si fa per la prima volta questo questo si utilizza per la prima volta il termine architettrice il successo della villa fu enorme anche se poi benedetto ci disse pochissimo fece un apparato effimero che è questa colonna dei corsi che era un po' una colonna infame doveva ricordare era posta la confluenza tra la fine di Via Giulia e Ponte Sisto a ricordare l'omicidio dell'ambasciatore di Francia da parte dei corsi appunto della guardia corsa e che quasi non provocò di nuovo una guerra tra Roma e Parigi e fu fatto con l'apparato effimero da Plautilla Bricci sempre appunto per rendere omaggio al Mazzarino fu incaricata di disegnare ma ha eseguito purtroppo il monumento funebre appunto per il cardinal Mazzarino bellissimo tra l'altro queste figure femminili sono proprio quelle sue che si ritrovano anche nei dipinti successivi sono alla Biblioteca Nazionale di Torino l'altro lavoro importante che fortunatamente invece è rimasto tale e quale così come lei lo terminò negli anni 80 all'incirca del secente la cappella di San Luigi quella da cui sono partita all'interno di San Luigi dei Francesi ecco qui io lascio voglio dire non mi addentrano le questioni stilistiche che diventano per un pubblico poi sempre abbastanza noiose voglio invece porre l'accento su un fatto la domanda la domanda che mi feci che continuo a farmi alla quale ho sempre da quando l'ho scoperto da quando ci sono arrivata sempre la stessa risposta una cappella così importante dedicata a San Luigi all'interno della chiesa nazionale dei francesi com'è possibile che sia stata data ad una donna? guardate questa è veramente la domanda delle domande ma non perché me la sia posta io ma perché credo se nell'ottica degli studi di genere di arte sia fondamentale perché ricade su questo la committenza la rete di relazioni pubbliche la 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 comunicazione che di questa cappella se ne è voluto fare in quegli anni lì allora dico ma è incredibile perché effettivamente la cappella costò più di 200.000 scudi soltanto di materiale marmorio quindi vi dicevo veramente benedetti perché anche questa ovviamente è committenza benedetti pagamento benedetti aveva soldi per muovere una guerra le vicende costruttive della cappella tra l'altro si perdono un po' si distribuiscono in tutto il 600 purtroppo i documenti che riguardano gli anni centrali sono andati distrutti in un incendio perché questi fanno parte di Loreto della prima casa di Loreto e comunque la mia risposta qual è? che sicuramente dietro all'approvazione aver dato aver concesso aver commissionato aver conferito applaudirla l'ideazione della cappella dell'apparato decorativo dell'alzato addirittura pensate questa è l'unica cappella stradossata di tutta la chiesa di San Luigi dei Francesi ciò significa che è stato chiesto un permesso ai maestri delle strade per poter prendere quello che noi chiamiamo suolo pubblico quindi veramente un lavoro corale politico importante siamo sempre nella Francia che stava un po' di qua un po' di là e con la revoca dell'editto di Nantes tutta la storia che conosciamo della riforma e post contro riforma era una cappella che svolgeva un ruolo politico fondamentale allora io penso che dietro a tutto questo ci sia stata un'altra figura di donna meravigliosa Anna di Francia la mamma di Luigi 14 che aveva a Parigi una un salon e ancora presto per definirlo un circolo di donne di Fanfort per cui hanno fatto riferimento tutta la letteratura proto-feminista francese e che in maniera un pochino più perdonatevi non mi piace ma insomma un po' più provinciale era quella della Tarabotti italiana dove si chiedeva a voce ferma e Anna di Francia in questo insomma era malgrado non mi piace ma insomma benché fosse estremamente religiosa però ha avuto una forza ha tenuto sempre dritta la barra dell'emancipazione femminile quindi io credo che dietro tutto questo ci sia stata proprio Anna di Francia anche perché la chiesa fu commissionata da Maria cioè dalla suocera e quindi lei abbia voluto in qualche maniera contribuire o continuare un filo rosso femminile che nasceva addirittura prima se vogliamo da Caterina da Caterina dei Medici e poi appunto passa per Maria arriva ad Anna di Francia sostenendo da lontano una donna architetta o architettrice o architetto e dando lei appunto questa decorazione e soprattutto questa sola merita un discorso a sé però il dipinto che è San Luigi tra la fede la religione e la legge cioè il santo che di fatto abbraccia per primo partendo a incrociata e morendo la fede cattolica ecco questo dipinto nel 1675 ancora comunque in pieno fervore post contro riformista viene affidato a Claudio Labricci che cosa fa Claudio Labricci mentre entriamo nelle questioni di genere adesso Claudio Labricci romana l'inventò cioè lei inventa l'iconografia quindi quando nei manuali di storia dell'arte dice non sono presenti le donne perché le donne non hanno avuto inventiva non hanno inventato soggetti iconografici non hanno inventato nuovi stili ecco questa è proprio la prova provata che non è vero tanto non è vero che non soltanto lei ha inventato l'iconografia di Luigi tra la legge e la religione qui tra l'altro il disegno conservato a Stoccolma che probabilmente fu preso dal Tessenne durante il suo viaggio romano questo è un altro dei tuoi dipinti se vado verso le conclusioni perché diventa pesante la nascita della Vergine qui c'è tutto il rapporto ancora con Mazzarino e col Cavaglia d'Alpino e tanto appunto lei inventa che inventa un'altra iconografia che poi è stata soppiantata ma la primissima iconografia del Sacro Cuore di Gesù la inventa e la dipinge Claudilla Bricci in questo che veniva chiamato il lunettone dei canonici lateranensi perché si trovava all'interno della cappella dei canonici lateranensi in San Giovanni il Laterano tolta durante i lavori di fine ottocento e oggi nei depositi dei musei vaticani la devozione al Sacro Cuore di Gesù nasce proprio negli anni 70 del 600 grazie ad un'altra donna Margherita Lacocque che nelle sue visioni aveva visto appunto il cuore insanguinato e fiammato di Gesù l'aveva più o meno disegnato e attraverso una rete di conventi questo disegno arriva fino a Roma e Plautilla lo trasforma in questa opera monumentale che tra l'altro è tre metri e mezzo per due cioè è una cosa enorme non è una miniatura non è un dipinto da cavalletto da signorina come l'Ottocento insomma ce l'ha voluto un po' dipingere e lei l'ha inventato e l'ha dipinto poi sappiamo benissimo che l'iconografia del cuore di Gesù viene soffiantata da quella di Pompeo Batoni cioè del Gesù col cuore in mano qualche anno dopo ma la primissima è stata inventata proprio da Plautilla una delle ultime opere dove la vedete appunto nell'autoritratto è lo stendardo cosiddetto stendardo bellissimo di Poggio Milteto Poggio Milteto è un piccolo paese vicino Rieti da cui paese originario dei Benedetti di Epidio Benedetti viene incaricato dalla confraternita di San Giovanni di dipingere uno stendardo processionale per il giubileo del 1675 quindi diciamo ovviamente la confraternita è dedicata alla San Giovanni e di conseguenza il recto il verso ci ha rappresentato la recapitazione di San Giovanni e sul recto la nascita della Vergine con gli stilemi diciamo tipici del suo linguaggio pittorico ultimissima opera è la decorazione a stucco della collegiata sempre di Poggio Milteto dell'assunta di Poggio Milteto dove se qui ho cercato di mettervi un po' dei dettagli dove si riconosce negabilmente il suo linguaggio lei tra l'altro era una maestra nello stucco perché in quei capitolati di cui vi parlavo in cui Beragiola dice no io non la voglio il capitolato è talmente preciso in cui dice gli stucchi devono essere del disegno cioè lei aveva avuto una manualità con lo stucco elemento questo che mi ha fatto mi ha confortato il suo apprendistato in cantiere in età giovanile dove si cominciava dalle cose più piccole anche a fare lo stucco fino diciamo a costruire proprio con i mattoni ecco la data di morte sulla quale recentemente sono stata contestata e io invece continuo a sostenere in maniera proprio a spada tratta che questo è il suo atto di morte Plautilla signora quondam come vedete c'è un buco tra il quondam e poi la data di morte hobbit eccetera eccetera animam che cos'è quel buco allora se l'avessi diciamo letto soltanto io sarebbe il delirio di una pazza appassionata di Plautilla Bricci sono stata confortata anzi anticipata nella lettura da un personaggio da uno di quegli studiosi da quegli intellettuali che veramente meritano in tutto questo appellativo che è Monsignor Sandro Corradini gli studiosi di Caravaggio lo conoscono molto bene perché a lui devono le scoperte dei documenti che hanno poi pubblicato Monsignor Corradini mi ha onorato con il suo aiuto io lo dico ma ha aiutato perché a un certo punto ero proprio in un buco nero e lui mi ha aiutato e a un certo punto mentre leggevamo tutti tutti le stati delle anime di Roma per cercare dove fosse morta Plautilla perché da qualche parte ci doveva pure essere e lui mi chiama e mi fa vieni qua Monsignor Corradini quest'anno compie 80 anni e stiamo pubblicando degli scritti in suo onore mi fa vieni qua e vado là e gli faccio che è è lei e dico ma Sandro ma che è lei non ci sta il cognome ma lo capisci che qui quondam puntini puntini di chi era figlia moglie madre sorella lei muore sola era morto il fratello era morta la madre era molto benedetti non aveva ancora mai sposata tutti i suoi nipoti erano morti morte anzi perché sopravvivono solo le femmine muore da solo in questo convento per cui quando le monaghelle chiamano il prete dell'estrema unzione e dicono è morta questa quello va lì Claudilla signora e ora torniamo un attimo sul signora quondam e quelle si saranno guardate tra di loro quondam chi e va avanti poi ce lo metteremo come succedeva chi conosce i documenti d'archivio e chi ci va in archivio e li studia i documenti d'archivio sa che è così che funziona signora l'appellativo signora e qui appunto abbiamo una filologa Carla dimmi tu correggimi veniva concesso a pochissime donne allora donna era ovviamente l'aristocratica la serva era serva la signora era l'appellativo dedicato a donne che si erano distinte per qualità intellettuali Carla dimmi te se non è così perché io lo devo nel recente catalogo della mostra che ora è a Milano sulle signore dell'arte mi pare sulla scheda di Plautilla Bricci mi si contesta la data di morte dicendo che io me la sono inventata ecco io ci tenevo in questa veste pubblica a dire che non me la sono inventata ma c'è stato un ragionamento che mi ha portato a dire vi ripeto non solo a me ma a chi negli archivi ci ha vissuto per un'intera vita che questo è l'atto di morte di Plautilla questo per dire e chiudo che la storia dell'arte delle donne senza la storia appunto scusate le donne nell'arte senza la storia di genere ancora è lunga a venire grazie per la vostra attenzione grazie 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 a tutti